Guardate com'è tranquilla la situazione, sono le bari, i pescherecci, la pioggia, io che sto prendendo la pioggia, guardate che bella mantellina che c'è, guardate, c'è una bella mantellina che mi copre tutto davanti, che mi copre tutto di dietro, sono a posto, sono un signore, strade ripide e perpetue, case galleggianti, quella là, quell'isola che si vede è Gili Island, è Air e l'altra è Travango, ci andremo domani, dopo vi faremo vedere, è un sito ideale per fare le immersioni, per fare del diving e vedremo se lo faremo, vedremo un attimo i costi, troveremo il budget e noteremo, ok? Ciao!